L'inconscio ci domina molto di più del conscio, diceva Freud non siamo padroni in casa nostra, ma allora questi poveri dannati dell'inferno perché restano all'inferno? Non è forse il loro inconscio, non è stato l'inconscio a muovere Paolo e Francesca in quella tragedia di amore che li trascina e ancora non li abbandona. Amore Galeotto, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, mi prese del colui piacersi forte che ancora non mi abbandona. Non è stato l'inconscio allora? Non è stata una passione più forte di loro? Come possiamo dire che allora loro sono peccatori? Che colpa hanno se la passione li ha trascinati? Non era certamente la ragione che poteva contrastare una forza così grande. Questo non accade nella nostra vita ogni volta che noi diciamo ma non ho potuto fare altrimenti. Io ho capito ma non ci riesco, ma non potevo fare diversamente perché qualcosa di più forte del mio io ha agito. Questo è un enorme problema perché se la mettiamo in questi termini anche la giustizia dovrebbe rivedere tutto. Noi abbiamo una giustizia retributiva che deve appunto combinare una pena commisurata al reato che è esattamente quella dell'inferno dantesco. Ma dall'esistenza dell'inconscio in poi noi dovremmo dire che anche il peggiore criminale aveva una componente inconscia quindi come possiamo condannarlo al cento per cento? In che misura infatti Ahmed come perito viene chiesto in che misura era scemata la capacità di intendere e volere? Ma allora di questo passo noi non potremmo mai riconoscere la responsabilità in nessuno. Ma che cos'è la responsabilità? La responsumabilitas in latino, nell'etimologia, l'abilità di rispondere. Allora qui si pone una questione spinosissima dal punto di vista dei passaggi di trasformazione e cioè ma io fino a che punto posso avere l'abilità o conseguire o trovare l'abilità di rispondere alle tre fiere. Posso io trovarla? Perché questa mi trarrebbe evidentemente in salvo rispetto alla passione inconscia. Evidentemente se io ho una responsabilità ho un'abilità a rispondere a qualcosa che pur mi trascina ma io cerco di rispondere.